Ciao a tutti, oggi vi presento l'olio essenziale Zengest di Doterra Va bene anche per i cani tra l'altro Questo olio essenziale è una miscela che Doterra ha creato per tutti i problemi digestivi quindi bruciori di stomaco, mala digestione, nausea, vomito, diarrea, stitichezza e è un olio che a livello emotivo aiuta anche a digerire situazioni che facciamo difficoltà a mandare giù può essere usato sia a livello topico, diluito in olio vettore che può essere usato ingerito e diffuso dentro a un diffusore ha delle ottime proprietà infatti questo olio contiene menta piperita, pinocchio, oriandolo, zenzero, anice e dragoncello quindi è veramente efficace, molto potente e se volete sapere di più potete chiedere nei commenti qua sotto seguirmi sulla mia pagina Facebook Ciao ciao!